E adesso la linea torna a Gigi De Paolo con il prossimo ospite molto atteso qui agli Stati Generali della Natalità. Si sta mettendo l'archetto, però intanto lo introduco perché questo è il momento che noi abbiamo voluto più lungo in assoluto dal punto di vista dei contenuti. Mi spiego meglio. Solitamente abbiamo visto nei panel, no? Ci sono due giri di tavolo, tutto quanto. Con Alessandro noi abbiamo dato carta bianca, proprio perché abbiamo bisogno anche, ci piacerebbe avere più tempo di fare queste cose anche nelle prossime edizioni. Però poi alla fine i tempi sono sempre contingentati, gli ospiti sono tanti, però il nostro desiderio era quello di averlo e dargli carta bianca. Quindi invito Alessandro D'Avenia sapendo che ha carta bianca. Quindi non sappiamo dove ci porterà Alessandro D'Avenia agli Stati Generali della Natalità. Ma i ragazzi dove me li hai nascosti, Gigi? Arrivano, arrivano. Mi avete lasciato solo? Ecco, ecco, venite. Venite, 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 che qui non voglio aggiungere altra retorica, vorrei vedere le facce. Allora, avevo anche, Gigi, qualche immagine da far vedere. Allora, c'è Cristian che ti dice tutto quanto, siamo pronti. I ragazzi di quale scuola? Avvocadro. Ecco, i ragazzi dell'avvocadro, che ringraziamo, sapete dove mettervi? Adesso ce lo dice Alessandro, è tutto perché è una sorta di classe virtuale. Se volete stare in piedi, state in piedi, ma distribuitevi equamente, se ci riuscite. Ui, com'è? Sì, sì, seduti, seduti. Seduti è meglio, mi dico. Anche di qua, anche di qua, così vi ho da tutti e due i lati. Più di qua, più di qua, dai, così vi vedo. No, no, non dovete stare alle mie spalle, di lato, dai, dai, su. Qua, 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 qua. Qua, qua. Ok, bravi, benissimo. Allora, ho chiesto di avere dei ragazzi vicino a me perché volevo appunto che fosse un dialogo con loro. Poi ci siete anche voi, poi avete tutti i cellulari in mano, quindi, vabbè, state pensando ad altro. È bellissimo, cioè tutti i problemi di questi ragazzi siete voi, non sono loro. E, vabbè, questo era un applauso facile, ne avevo bisogno per incoraggiarmi. Che cosa vorrei dirvi, visto che Gigi mi lascia carta bianca? Io vorrei dirvi semplicemente quello che hanno loro da dirvi, per il semplice fatto che, appunto, stando in classe da ormai 23 anni, sopportando questa gente da 23 anni, voi immaginatevi, Dante, io sono convinto che abbia dimenticato nella grande costruzione della Divina Commedia che abbia solo un cielo in paradiso, che è il cielo degli insegnanti. Il cielo degli insegnanti che è il più vicino a Dio perché Dio dovrà solo poter allungare la mano e dire non ti preoccupare, a te adesso ci penso io, tu hai dato. Quindi vorrei confortarvi con questa, insomma, prospettiva di eternità, dato che poi entrando in classe è tutto un po' più complicato. Ok. Avevo messo tra le immagini, ma non la vedo all'inizio, quindi pazienza. Sì, niente, vabbè, ve la racconto io. Sono stato recentemente ad Amsterdam perché c'è questa bellissima mostra di Vermeer, se vi capita di andare approfittatene, e sono andato a fare visita, oltre che a Vermeer, anche a Van Gogh, che è un amico di vecchia data, e alla fine di questa mostra c'è una bellissima immagine di un mandorlo in fiore su uno sfondo azzurro. Siamo nel 1890, intorno a gennaio, quando Vincent Van Gogh decide di dipingere questo quadro. Perché? Perché gli arriva la lettera del fratello Theo che gli annuncia la nascita del figlio. Come sapete, Vincent era molto legato al fratello Theo, e quando viene a sapere di questa notizia, apprende anche che il fratello ha deciso di chiamare il figlio Vincent. Allora lui è entusiasta di questa cosa, dipinge, ti stai già stancando, vabbè lo so, ci sono state due ore di politici prima, vorrei vedere. Vincent, felicissimo di questa cosa, dipinge questo quadro meraviglioso. Perché sceglie l'albero di mandorlo? Perché è l'albero che fiorisce prima di tutti gli altri, che annuncia la primavera prima di tutti gli altri. Addirittura, torno a febbraio, Vincent quando dipinge questo quadro si trova in una regione al sud della Francia dove era andato a cercare un po' di calore, di colore, ma dove era anche ricoverato per le crisi che aveva avuto in quel periodo in un ospedale appunto, veniva utilizzato come ospedale psichiatrico. E in questa fase abbastanza oscura della sua vita, siamo nel 1890, Van Gogh si toglierà la vita sette mesi dopo, uno degli ultimi quadri che dipinge è quello che inneggia alla nascita del proprio nipotino che porta il suo nome. Ecco allora, io guardando alla fine della mostra questa immagine perché era volutamente inserita nel percorso della mostra alla fine, ho visto quello che avrei detto qui. Perché? Perché chiunque conosca un minimo la vita di quell'uomo sa quanto abbia dovuto combattere per invertire la narrazione in cui noi siamo immersi oggi. Cioè una narrazione disperante che dice che la tua vita non vale niente, che non c'è nessun futuro, è l'unica cosa che puoi fare è toglierti la vita, ma attenzione, toglierti la vita non vuol dire togliersi la vita fisicamente, vuol dire privarsene pur di non sentire quel dolore, che è esattamente quello che sta succedendo a questa generazione. Perché? Perché come diceva bene Leopardi, il giovane chi è? È colui che non è diverso dall'uomo maturo, dall'anziano per l'età, ma perché sente con più forza il dolore di ciò che gli manca. L'adulto, l'anziano, in qualche maniera si è accomodato alla vita, ha anche un po' fatto un po' di quei compromessi per cui verità, bellezza e giustizia, insomma, sì, sono importanti, ma poi neanche tanto, l'importante è arrivare alla fine della giornata. Ecco, questi ragazzi invece, all'ordine del giorno, come priorità hanno questo, il dolore della vita, che è la benedizione dell'età in cui stanno. Solo che questo nessuno glielo dice, perché invece siamo immersi in una narrazione che ci dice, guarda per carità, se senti dolore, se qualcosa ti manca, dimenticatelo, è solo un'impressione, passerà, passerà. Quando anche la natura li ha fatti in questo modo, perché sapete benissimo che il cervello di un essere umano che è il suo corpo, lo ripeto, il cervello di un essere umano che è il suo corpo, si trasforma da zero a vent'anni in un modo che parla chiaro, ma noi che siamo diventati sordi alla realtà, perché non ci piace rispettarla, che cosa facciamo? Questo lo ignoriamo. Solo una cultura che ignora che il cervello sia il corpo poteva immaginare di trasferire un intero sistema scolastico in uno schermo. Perché noi li sentiamo, questi che ci guidano, che guidano questo mondo in cui noi viviamo, ed è tutto bellissimo, è tutto risolto. Ma perché poi tra loro e noi qualcosa nella catena non funziona? Cosa succede tra potere e realtà? Perché io ho ascoltato, come voi, per un'ora e mezza il migliore dei mondi possibili. Uno si chiede com'è che siamo arrivati a questo punto. E questo punto è il frutto di certezza che venivano dette nella stessa maniera 50 anni fa. Chiunque di voi abbia contezza di quel libro bello che ha scritto Ricolfi e la società signorile di massa, lui spiega in maniera molto chiara che il problema dell'Italia è nato dal fatto che quel poco di soldi e di potere che dagli anni 70 in poi abbiamo avuto abbiamo deciso di mangiarcelo ritenendoci i signori del mondo, fregandocene altamente di quelli che sarebbero venuti. Quindi il problema non sono loro. Loro, caso mai, sentiranno più dolore per una mancanza di narrazione che noi adulti non abbiamo. E questo fa male dirlo. È anche scomodo. Le persone che sono qui chiaramente stanno lottando perché questo cambia. Io non mi sto rivolgendo a voi. Sto cercando di dire una parola diversa dall'ottimismo che ho sentito prima. Ma io non sono una persona ottimista perché entro in classe tutti i giorni. Sono una persona piena di speranza che è tutt'altra cosa. E allora, una cultura che pensa che il cervello non sia tutto il corpo, che cosa fa? Niente, mette tutti dietro uno schermo nello stesso numero di ore che si facevano in classe perché in fondo quello che si pensa è che la cura della persona sia quella di una trasmissione di dati che si possono trasmettere dentro una classe o dietro uno schermo alla stessa maniera. Se io penso che la scuola sia trasferibile dietro uno schermo per lo stesso numero di ore, non modificando niente, io ho un'idea di uomo molto precisa. Un uomo senza corpo. E la prima cosa che accade nel nascere è che c'è un corpo che non si può più ignorare. E invece noi continuiamo a ignorare la presenza di questi corpi. La scuola italiana si è strutturata, come è adesso, alla fine dell'Ottocento, quando serviva a portare un popolo di contadini dietro delle scrivanie. Tutti i nomi che hanno a che fare con la scuola sono nomi, infatti, che vengono presi dal gergo militare. Fare l'appello è il momento della donata. Bisogna capire se ci sono tutti. Chiunque di voi ha letto Pinocchio sa che il problema era capire se mandare i carabinieri o no. Ve lo ricordate? Il problema di Pinocchio erano i carabinieri. Le file, la classe, sono tutti termini del gergo militare. Che cosa abbiamo raccontato per un secolo e più nella scuola italiana e continuiamo a raccontare anche con quello che è stato fatto recentemente? Esattamente la stessa cosa. Tu sei uno che deve essere intruppato, reso obbediente ad alcune regole. Per carità, anche questo fa parte dell'educazione. Ma siamo sicuri che questo sia contribuire alla nascita delle persone? Un poco poco di studio delle neuroscienze, che poi, insomma, le neuroscienze sono il grande giro per giustificare l'acqua calda, no? Con tutto il rispetto per chi le studia, non è una critica alle neuroscienze. Dico che quando arriva l'esperto a noi a scuola a raccontarci come stanno le cose, dice perché le neuroscienze? Benissimo. E finalmente, ora che lo dicono le neuroscienze, allora le cose si possono fare. Ci dicono in maniera molto chiara che da zero a sei anni, che cosa succede? Che il cervello è di una plasticità straordinaria, un'esplosione. Quando uso la parola cervello, mi raccomando, non la separate dal corpo, non sto parlando di quello che sta qua dentro, sto parlando di tutto il corpo. Capisco che può essere complicato, ma noi dobbiamo rifare il linguaggio, se no rimaniamo uguali. Questo cervello che esplode, che cosa fa? È il cervello di chi deve prendere dalla realtà tutto ciò che gli serve per capire come sopravvivere. Per questo si deve aprire a 360 gradi in tutte le dimensioni possibili. Il bambino tipicamente mette il dito dentro, la presa e il papà e la mamma lo devono proteggere, no? Deve provarle tutte. Che cosa succede a questo cervello, a questo corpo attorno ai sei anni? È quella che viene definita la fase del bambino competente, ovvero tutte quelle esperienze che sono state fatte vanno limitate a ciò che serve veramente alla sopravvivenza in quella società. La natura è molto semplice. Quindi tu da sei a dieci anni perché vai alle elementari? Perché fai le stanghette? Perché hai quei cartelloni con la farfalla, l'ognomo, ve le ricordate? I nostri traumi vengono tutti da lì. Tutti da lì, non crediate che ci siano chissà. Se io vi dico F, voi subito pensate alla farfalla. Se io vi dico G, N, voi pensate all'ognomo, la C dolce, c'è quella coppia di ciliegie che subito si confiega. È vero signora? Eh sì, eh. Cioè ci avessero detto B, bidone, saremmo stati un po' più pronti a stare nella realtà. Ma pazienza. Che succede a questo bambino competente? Che deve imparare quello che gli serve a stare nel mondo. Ma lui è venuto al mondo. Quindi è una fase successiva. Questo venire al mondo, venire alla luce, che cos'è? Questo stare al mondo, stare nel mondo, che cos'è? E poi succede che intorno ai 10-11 anni, a seconda appunto delle diversità. Io quando prendo questi al primo anno di superiori, adesso li vedete, questi sono di quarta, quindi li vedete belli fatti e finiti, grandi, grossi. Io ho un complesso di inferiorità. Al primo anno già sono più alti di me. All'inizio della mia carriera scolastica mi sono dovuto fare crescere la barba perché il mio trauma iniziale a scuola è stato essere cacciato dalla collega di latino e greco dal bagno dei professori. Pensando che io mi fossi inserito lì perché in preda non so quali turbamenti adolescenziali. E allora che succede attorno appunto a quell'età in cui poi arrivano da me? Succede che il cervello ritorna, il cervello corpo ritorna alla stessa plasticità che aveva da 0 a 6 anni. Infatti rimbambite, si dice, no? Avete in comune con gli anziani e con i bambini piccoli questa semplicità del vivere che è fare esperienza, buttarsi, mettere le mani nella presa. Qual è la differenza? Che adesso le mani nella presa ce le puoi mettere. Mamma e papà, se ti dicono non lo fare tu dici e chi sei tu? Non ti riconosco. Quei dolori dell'educazione chiamati adolescenza. Ecco, tutto questo perché ve lo dico? Perché la natura, perché ha di nuovo rimodellato insieme al corpo questa trasformazione? Per un motivo molto semplice. Che l'età tra 12 e 20 anni è fatta per andarsene via di casa. lo ripeto, care mamme, tra i 12 e i 20 anni. Il cervello corpo si struttura in modo da avere quell'energia per staccarsi e infatti vuole le chiavi di casa, vuole l'orario in autonomia. vedo alcuni ragazzi che annuiscono e dei genitori preoccupati, sì, è così. Ma questa cosa è grandiosa perché quando loro invece arrivano a quell'età noi che cosa diciamo? Mi raccomando, stai attento, non rimanere incinta, non lo mettere, cioè è tutto orientato a che cosa? Alla paura. E invece quel corpo che cosa sta dicendo? Ho di fronte un futuro padre, una futura madre. Che significa questo per ciascuno di voi? Significa stai attento a non rimanere incinta? Cioè noi associamo la chiamata naturale. Attenzione, non sto facendo discorsi di... vabbè ci siamo capiti, non siete ingenui. Sto dicendo ma noi che cosa diciamo di questo corpo che abbiamo di fronte? Cosa diciamo a questo corpo che abbiamo di fronte? Perché si senta depositario di qualche cosa che fino a quel momento non ha avuto e che è la grandezza del suo vivere, cioè di poter dare alla luce. Non sto parlando di dare alla luce biologicamente, sto parlando del fatto che questo corpo scopre che o crea, e noi diciamo procrea, oppure implode. La tristezza di questi ragazzi è la mancanza di possibilità creativa. Ma come si fa a far sì che ci sia coraggio nella creazione se la narrazione attorno mi dice che quello che io posso creare è qualche cosa di cui devo avere paura? O che le energie che ho per creare in realtà mi servono a godere di qualche cosina e non invece dello spendere la vita in maniera unica e irripetibile per come ce l'ho a disposizione? E' questa narrazione che va cambiata. E allora, visto che parliamo di natalità, nascere, nascere, ma ci vogliamo soffermare un attimo su questo termine? Ma che vuol dire nascere? Perché noi diciamo venire alla luce? Perché noi diciamo venire al mondo? Perché utilizziamo queste metafore? perché utilizziamo questa parola? Che cosa è nascere? Che vuol dire veramente nascere? La narrazione dominante che cosa ci dice? Che noi siamo semplicemente persone a termine che moriranno e quindi dobbiamo accaparrare più vita possibile per proteggerci da questa paura di morire. Sono tre le paure fondamentali degli umani. Uno, il fatto di essere venuti al mondo senza che ci sia stato chiesto il permesso. Quindi sostanzialmente vergognarci del fatto che siamo così. Loro lo sanno benissimo. La mattina si alzano, si guardano allo specchio e dicono con quella faccia come faccia uscire così? No? Vi capita? Eh, è vero. E questo perché succede? È forse una condanna? No, è una fragilità originaria del nostro stare nella vita come qualcuno che la vita l'ha ricevuta. Non ho chiesto il permesso. E questa è una prima paura su cui bisogna lavorare. La seconda paura che è subito dietro questa è ma questo mio esserci qui è a termine. Ma allora cosa devo fare perché questo termine abbia senso? Seconda paura. Terza paura è il fatto che ci siano altri che hanno più di me. l'ingiustizia, quello più bello, più bella, più intelligente. Cioè la vita presa così come si dà, ragazzi, ma è una roba da togliersi di mezzo subito. Ma la natura che non è stupida ma ha una sua ragione profonda nel fare le cose, un suo logos direbbe qualcuno, che cosa fa? Come risponde a questa nostra paura di esserci ed esserci qui come siamo ed essere a scadenza? Come? Chiedendoci di trasformare la percezione di questa fragilità, di questa debolezza, di questa precarietà in che cosa? In due elementi che sono quelli che poi costituiscono la felicità umana. Primo, creatività. Secondo, relazioni. Cioè il fatto che io scopro di non essere abbastanza, perché così come sono nato non sono abbastanza, è tutta l'architettura dei social che cosa va a fare? Va a lavorare esattamente su quella paura. Ma non perché è cattiva e perversa, semplicemente perché la maniera più semplice è di prenderci nella cosa che è più radicale in noi. Il fatto che abbiamo paura di non essere abbastanza, perché siamo nati senza che ci venisse chiesto, moriremo nel momento in cui, buh, neanche sappiamo come, quando sarà. Questa paura che cosa ci porta a fare? Dice aspetta, 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 cerchiamo di prendere a destra, a sinistra qualcuno che in qualche maniera manifesta di essere un minimo felice in questo non essere abbastanza collettivo. E quindi si rimanda costantemente il dolore di questa precarietà che ve lo ricordo è la vostra benedizione. Se voi di pomeriggio siete lì a piangere di fronte allo specchio nella vostra stanza perché vi sentite una schifezza, sappiate che quello è il vostro momento di benedizione, perché è l'unico momento di verità in cui quella paura l'affrontate e potete fare due cose, due cose. O scappare e continuare a guardare vite di altri in cerca di un destino che non avrete mai, oppure fare quello che fece Giacomo Leopardi. Dice ma tu scusa ci citi proprio delle persone che hanno fatto una fine bruttissima, il Leopardi, il maestro del così quello che appunto ve lo ricordate se avete fatto l'interrogazione su Leopardi, no? Le tre fasi del pessimismo, chi se le dimenticate, no? Povero Leopardi, voi ve li immaginate se tornasse su questa terra e gli dicessi guarda ce l'hai fatta, quello che hai fatto è rimasto per sempre, sei scettica? È così. Dice ah sì, che cosa è rimasto? Guarda, puoi chiederlo a qualsiasi adolescente che abbia fatto la maturità in Italia. Lui va da quest'adolescente e dice ma io per cosa sono rimasto? Guarda, per le tue tre fasi del pessimismo. Ti posso anche dire le date in cui questo è accaduto. Ecco, questo fa parte diciamo della fatica del vivere adolescenziale, comunque Giacomo Leopardi all'età di 18-19 anni scrive una lettera all'intellettuale più importante in quel momento in Italia, lui era alla periferia dello Stato Pontificio a Re Canati, scrive una lettera e dice caro Pietro Giordani, io ho capito che la mia vocazione è essere poeta. Vorevo sapere cosa ne pensi e gli manda alcuni suoi scritti. Pietro Giordani incredibilmente gli risponde e gli dice ragazzo hai del talento, però la poesia non è cosa tua, sei troppo giovane, sei troppo giovane, era il 1817, devi impegnarti per una trentina d'anni prima di, nella prosa per poi potere, era il 1807 scusate, prima di cominciare appunto a occuparti di poesia. E che cosa succede? Che Leopardi risponde e dice caro Giordani io non ce l'ho a questo tempo, sarebbe peccato mortale non cominciare subito. E gli racconta perché deve cominciare subito, perché ha assistito vicino Re Canati a un evento incredibile, incredibile, io non so, adesso io ve lo dico, voi vi stupirete. La primavera. Boh, che noia sta primavera. No, meglio scrollare immagini su Instagram, io te l'assicuro. Perché? Perché guardando una primavera si può scoprire di diventare il più grande poeta della modernità italiana. Perché stando di fronte alla realtà e siccome il cervello è corpo, quello che succede è che tu senti la chiamata e la chiamata ti dice come tirarti fuori da quella paura di non esistere. Quella cosa che solo tu puoi essere e fare. E allora cominciamo a entrare nel discorso del nascere. Ho sentito parlare di questo nascere che riguarda solo il mettere al mondo. Ma vogliamo dirci che la vocazione dell'uomo è nascere per tutta la vita? Articolo 3 della Costituzione, il compito della Repubblica, qual è? Togliere tutti gli ostacoli per il pieno sviluppo della persona umana. Ovvero, articolo 3 della Costituzione, il migliore dei mondi possibili, noi siamo qui per nascere. E il compito della politica è togliere gli ostacoli al nostro nascere e non contribuire invece alla nostra morte. E infatti su questo palco erano tutti d'accordo poco fa, perché nessuno vuole morire, tutti vogliono nascere. Interessante, allora che cos'è politica e cos'è retorica? Che quando tutti sono d'accordo forse è politica e quando non sono d'accordo è la retorica del potere che sta parlando. E allora non bisogna ascoltare, uno si annoia subito, l'avete sentito? Io adesso chiaramente non commento, ma non è neanche il mio compito, ma sono sicuro che voi avete sentito quando il cuore c'era e quando non c'era, quando parlava il potere e quando parlava la politica. Ecco, questa cosa qui è vera, non si scappa. E quando parla la retorica voi state semplicemente sentendo i discorsi che parlano di morte. Quando parla la politica sentite che volete vivere di più. E l'avete sentito nei discorsi che sono stati fatti quando vi veniva voglia di vivere di più. Allora parlare di natalità è chiedersi, ma nel mio parlare attorno a me succede che la gente vuole nascere di più. E perché questo? Per quello vi dicevo prima, perché la grande risposta alle nostre paure qual è? Primo, trasformare la paura di non essere abbastanza, cioè essere a scadenza ed essere in un'origine che non ci siamo dati da soli, creando. Cioè la risposta alla nostra insufficienza è creare. Leopardi dice, comincio subito. Se avesse aspettato quei trent'anni noi non avremmo una sola, un solo verso di Giacomo Leopardi. Un caro amico conosciuto in palestra, durante la più grande di me, mentre ci sistemavamo dopo il nostro allenamento, mi diceva, guarda io sono legatissimo a Leopardi perché mio papà, quando io avevo vent'anni, a 19 avevo cominciato l'università e perdevo tempo, non riuscivo a dare gli esami. E mio papà un giorno mi prese e mi disse, vedi Andrea, Leopardi alla tua età aveva già scritto l'infinito. Io mi sono commosso perché ho detto, c'è stato un momento della storia italiana in cui un padre ha usato Leopardi come modello per il proprio figlio. Meraviglioso, no? E Leopardi che, questo ragazzo che aveva visto la primavera di Recanati e dice, figlio farei peccato mortale a non dire subito questa bellezza che ho visto e dirla a tutti, ecco che poi comincia a usare la parola in quel modo che è diventata un aumento di essere per chiunque gli si accosti. Era la periferia dello Stato Pontificio all'inizio del 1800. Aveva tutti gli alibi per dire io non sono abbastanza. Poi vanno pure raccontato che c'era la gobba, quindi figuratevi se non aveva tutti gli alibi per non vivere. Voi aprite qualsiasi manuale di psicologia ma proprio di base. Cosa deve fare l'uomo per essere felice? Due cose ci sono scritte. Creare e avere buone relazioni. E allora passiamo alla seconda risposta. Allora capite cosa si sta configurando come io stia parlando dall'inizio alla fine di politica. Perché la polis, come mi hanno insegnato i miei maestri greci, è il luogo, è un progetto da fare, non è la gestione di risorse umane. Ma ci pensate che chiamiamo gli uomini risorse umane? Cioè qualcuno che è fatto per essere esaurito. Infatti siamo tutti esauriti. Ma dal linguaggio, dal linguaggio si comincia a capire dove sono le storture politiche di questo mondo. Ripeto, uso politica come uso cervello. Cervello e corpo, politica è il bene comune. Quindi è una cosa che è sempre da fare grazie a che cosa? All'apporto creativo e alle relazioni che nascono da quell'apporto creativo. Perché quello che posso fare io tu non lo puoi fare, quello che puoi fare tu io non lo posso fare, abbiamo bisogno. E questo è il principio base della socialità. Ma perché questo accada? Che cosa deve succedere? Che possa nascere quel qualcosa in cui io sono insostituibile. È zero vent'anni, anzi. Meno nove mesi, vent'anni, serve a questo. Ormai gli studi lo ripetono in maniera molto chiara. È essenziale per il sistema immunitario di un bambino, di una bambina, di un uomo, di una donna i primi mille anni, mille anni, sono mille anni, i primi mille giorni della sua esistenza, a partire dal grembo della madre. Il sistema immunitario dipende da quante volte è stato ripetuto il suo nome in quei mille giorni, da quante carezze ha ricevuto. Allora, ce lo vogliamo ricordare che è un corpo che ha nove mesi prima di venire alla luce? Ce lo vogliamo ricordare o vogliamo fare finta che non sia così? Perché poi le scelte politiche si fanno in base a quello che uno decide essere la vita. Ma mi sembra che i dati di fatto ci dicano che tutta la vita è un venire alla luce, è un poter venire al mondo se qualcuno si prende in carico questa fragilità. Che, ripeto, non è una fragilità. Vengo da casa di un mio amico che ha avuto appunto un bimbo, motivo per cui poi ho scelto questa foto, un bimbo 40 giorni fa e questo bimbo si chiama Cosmo. Chiaramente, a voi viene da ridere, dice ma guarda, che guai che fanno sti genitori, ma Cosmo lo dovevi chiamare che poi lo prenderanno in giro a scuola, no? Tu c'hai un nome complicato, no? Ti è andata bene? Normale tipo? Paola, te è andata bene. Penso se ti avessero chiamato Cosma, sarebbe stato un po' un problema, no? E questo bambino è appunto, fa quello che deve fare, ma è chiarissimo già che ha una personalità. Chiarissimo. E la mamma mi diceva, mi ha detto, ce l'ho avuto chiaro sin dal grembo, perché a differenza delle mie amiche che mi dicevano, sì, dieci giorni fa un colpettino, lei mi ha detto, io per gli ultimi tre mesi della gravidanza non ho fatto altro che ricevere colpi. È un bambino che non dorme di giorno perché vuole sempre interagire con gli altri. Dorme solo la notte, cosa positiva per i genitori, infatti vedo una mamma contenta che annuisce, però anche di giorno poi è fatica, eh? Allora lì vedi che cosa sta già venendo alla luce e chi guarda che cosa viene alla luce, chi permette, chi è ostetrico di questo venire alla luce. Allora voi capite perché vi dicevo prima speranza, non ottimismo ma speranza, perché fare il mestiere dell'insegnante è questo, è avere la possibilità di mettersi al servizio di ciò che viene alla luce. Lo ripeto, siamo partiti dal mandorlo di Van Gogh, dipinto in un momento di disperazione, un uomo che cerca di riscrivere il proprio destino da che cosa? Dal fatto che suo fratello ha avuto un bambino e ha deciso di chiamarlo come lui. E questo quadro vi assicuro è pieno di gioia, la gioia che serviva a Van Gogh ad aggrapparsi alla vita. Proprio quella nascita richiamava Van Gogh a quello che lo teneva in vita. Quando Van Gogh ha smesso di trovare salvezza in ciò che dipingeva, si è tolto la vita. Allora vedete che non stiamo parlando di cose così sentimentali, stiamo parlando del, tu come ti chiami? Sara. Della possibilità da dare a Sara, articolo 3 della Costituzione, di rispondere a questa domanda, perché sei venuta al mondo? Ora, hai guardato in basso, lo so, certo, perché questa domanda ammazza chiunque. Ma la maturità che in Italia viene passata dal 99,6% dei ragazzi, il che vuol dire che è una farsa, è uno dei tanti teatrini che teniamo in piedi. E quanti teatrini teniamo in piedi mentre ignoriamo la vita vera, perché fa parte di quel cervello staccato dal corpo che si deve prendere un marchio per poter poi proseguire la carriera e tutti corriamo verso il nulla, perché già la parola carriera ci dice a cosa siamo condannati. Non a venire alla luce, ma a correre. E sulla mia tomba ci sarà scritto corse. No. Come diceva Robin Williams, quello che conta nelle date che ci sono su una tomba è il trattino tra le due date. Quelle due cose sono capitate, non me le sono neanche scelte. Quanti teatrini che pur di ignorare la vita costruiscono farse per dire che siamo occupati in qualcosa. Quanta burocrazia nella scuola proporzionata al fatto che non vogliamo prenderci cura di loro uno per uno. Perché? Perché sono pesanti, perché il corpo pesa. Ed è molto più semplice occuparsi delle carte. Il tasso di burocrazia che c'è nei sistemi politici è pari alla non volontà di occuparsi della vita delle persone di quei sistemi politici. Ve l'assicuro. A scuola è evidentissimo. Io di discorsi su quanto la scuola, su quanto serve a scuola, quello che si può fare a scuola, ne sento da 23 anni a questa parte e da prima perché sono stato studente. Non cambia mai nulla. A partire dal rispetto di noi insegnanti. Chiudo la parentesi, perché qui aprirei tre quarti d'ora su questo argomento. Ma lasciamo perdere che poi... Allora, mi devo rasserenare. Siamo qui. Dicevamo, tu che ti chiami, hai detto? Sara, perché sei venuta al mondo? Ecco, un sistema politico si occupa delle nascite mettendo in condizione di poter rispondere a questa domanda. Un sistema politico, non un sistema di potere. Un sistema di potere ti controlla e ti dice, tu devi essere organizzato per darmi certe cose, risorse umane. Un sistema politico ti chiede, Sara, tu perché sei un bene per questo mondo? E ciò che puoi essere e fare tu, puoi esserlo e fare solo tu? Come posso aiutarti a realizzarlo? Articolo 3 della Costituzione, illuminatissimo. Che cosa posso fare? Invece Sara arriverà, non lei perché sei su questo palco e perché c'ha qualcuno che... Vabbè. Arriverà alla maturità le faranno la fatidica domanda, e dopo cosa vuoi fare? Quando l'unica domanda da fare all'inizio dell'esame di maturità è dire, ma tu chi sei? Tu chi sei? Che hai fatto 18 anni, in che maniera sei venuto alla luce e ti abbiamo aiutato a nascere? E attenzione, questa non è retorica di volontariato, non è il carisma del professor Davenia, del professore che ha chissà... No, questa è politica, ma per un motivo molto semplice, e ce l'avevano chiarissimo gli antichi Platone quando deve raccontare nel suo dialogo il politico. Che cos'è il politico? E non sta parlando del politico nel senso di colui che fa politica, sta parlando di chiunque debba occuparsi di una comunità, cioè chiunque abbia delle vite che gli sono affidate. Dice che all'origine dei tempi, Cronos, il tempo, governava tutte le cose e provvedeva a che tutti avessero ciò che serviva loro. Cos'è successo a un certo punto, racconta Platone, che inventa questo racconto grandioso? Che la natura inverte il suo corso. A quel punto succede che Cronos deve ritirarsi dal mondo. Interessantissimo. Il tempo deve ritirarsi dal fatto di essere tutt'uno con coloro che ne ricevono i suoi benefici. Quindi che succede? Che il tempo diventa un frammento dentro Sara, dentro Paola, chiediamo anche un ragazzo, tu ti chiami? Diego? Tu? Alessio? Ecco. Allora ci sono queste porzioni di tempo che sono allocate lì. Ma che succede? Cronos è preoccupato, dice in questo momento io non mi posso occupare più di niente, la natura ha cambiato il suo corso, adesso il tempo è affidato agli uomini. Allora Platone dice questa cosa bellissima, che quando il tempo si ritirò dalla natura, gli uomini dovettero prendersi cura di sé da se stessi. Che cosa sta raccontando Platone? Chi è il politico? È colui che ha capito che tempo è sinonimo di cura. Gli uomini dovettero prendersi cura di sé da se stessi. Cioè il loro problema non era, era sicuramente il tempo a scadenza. Ma qual era la risposta creativa al fatto di essere a scadenza? I greci in questo erano serissimi perché se io vi dico tutti i giorni che siete mortali, voi oltre a fare gesti apotropaici a un certo punto dite vabbè basta mi devo svegliare qua, non fai altro che ripetermi che morirò. E i greci erano serissimi perché uno che chiama gli umani mortali gli ripete costantemente questo. Ricordati che devi morire. Immaginate la mattina dice ricordati che devi morire. Sì e che problema c'è? E che problema c'è? Il problema c'è perché? Perché siccome non abbiamo nessuna narrazione di speranza che risponda a questa fragilità costitutiva dell'umano, che facciamo? Scappiamo da questo. E infatti non chiediamo a lei perché sei venuta al mondo. Cioè come fai a non morire? Perché abbiamo talmente tanta paura della morte e del fatto che la vita non abbia senso che la domanda sul senso la evitiamo. E costruiamo intere strutture per rimandare la domanda. Salvo poi a un certo punto svegliarsi e dire oh sono in crisi. Come mai? Dovete soffrire tanto. E questa è la vostra benedizione, lo ripeto. Perché? Perché quel senso di mancanza che poi la psicanalisi chiama desiderio è esattamente l'origine della creatività e delle relazioni. Ma chiaramente nella grande pandemia dei cervelli, quella sì dei cervelli e non dei corpi, che io chiamo conind, cioè il combinato composto di consumismo, individualismo e nichilismo, è una continua fuga dalla risposta a questa domanda. Allora faccio l'esempio per dare il buon esempio. Perché sei venuto al mondo? Io devo rispondere a questa domanda il primo giorno di scuola dei miei alunni su me stesso. Provatelo a fare questo lavoro e sentirete dentro di voi qualche cosa che o sta nascendo o ha smesso di nascere. Quindi sentirete questa domanda o con dolore, è parto, non vi preoccupate, non è cancro, è parto. Perché sono venuto al mondo? Che poi è interessante come metafora che usiamo. Perché venire alla luce, venire al mondo sono cose che indicano una progressione. L'uomo, ve lo ripeto, e credo che questa occasione ce lo faccia capire bene, è fatto per nascere del tutto, non per morire. E questa è la narrazione che dobbiamo cambiare. Perché poi leggete quella notizia di questo imprenditore americano che avendo un sacco di soldi a un certo punto, a 48 anni, ha detto sto facendo una vita di merda, mi devo fermare. E che cosa fa? Spende 2 milioni l'anno per uno staff di 33 persone che lo devono fare ringiovanire a 18 anni. E certo, sei andato di gran carriera fino ai 47, poi a un certo punto ti fermi e dici ma io che ci sto a fare qua? Aspetta che ringiovanisco. E ci stanno riuscendo? Certo, deve avere 2 milioni di dollari l'anno, eh? Non credo che la maggior parte di noi possa occuparsi di questo. Va bene. Che cosa, tutto questo per dire che cosa, come facciamo a far nascere? Come facciamo ad aiutare a venire alla luce, a venire al mondo? Che poi è quello che consente di non avere paura del mondo. Perché venire al mondo è avere il coraggio per riuscirci. E questi signori, per nascere, quello che hanno bisogno è solo di un po' di coraggio. Perché tutti il resto già ce l'hanno. Tutta la retorica del futuro. Perché voi siete il futuro. Ma io sono il futuro tanto quanto voi. E chiunque qui dentro sia a qualsiasi età è uguale. Perché futuro non è altro che il participio futuro del verbo essere. Punto. E come diceva il poeta Rilke al suo, a un ragazzo che gli scrisse per chiedergli se aveva talento poetico, voleva un consiglio. E lui dice, guarda, il futuro non sta davanti a te. Sta dentro di te. Se cominci a interrogarlo e a poco a poco a farlo venire alla luce. Quindi fare la domanda a lei e a me perché sei venuto al mondo significa potersi dire con serenità che cosa? Che io per esempio esisto su questa terra per un motivo molto semplice. Risvegliare la vocazione delle persone attraverso la bellezza. Ma tu sei più insegnante o più scrittore? Ma chi se ne frega? Quello nel grande teatro del mondo del 2023 è la maniera in cui questa vocazione che io ho si può esplicare. Se poi io domani ho un incidente e rimango in sedia a rotelle non posso fare quelle due cose. A me quella vocazione rimane intatta. Perché sul piano dell'essere il fare me lo dovrò inventare. Ed è quello che dà il coraggio di vivere. Cioè il fatto di sapere che io sto nascendo nella mia vocazione unica e irripetibile ogni giorno. E in questo senso siamo tutti il futuro. Sospettate quelli che in una frase sui giovani dice voi siete il futuro. Voi siete il passato per quanto mi riguarda. Fino a che non sapete rispondere alla domanda perché se al mondo siete il passato. Sarete il futuro nel momento in cui risponderete. Tu c'hai la faccia di uno che già lo sa un po'. Bene, mi fa piacere. Allora capite che nascere, nascere, nasco, nasco, natura, stessa radice, no? Nascere, natura, ha a che fare con qualche cosa appunto che è molto semplice, che è legato proprio alla felicità. Ora vado verso la... tanto Gigi mi ha dato carta bianca, io poi ero un po' fumantino per le cose che avevo ascoltato prima. Per carità, ognuno fa il suo mestiere, fa il suo lavoro, però di fronte alla retorica del potere subito scatto. Di fronte alla politica invece mi appassiona. In alcuni momenti mi sono appassionato, infatti. Che tendenzialmente sono poi quelli in cui avete applaudito. Perché se voi ci pensate, perché un umano fa così, fa ridere sta cosa, è una cosa assurda. Fermatevi un attimo a riflettere. Che cosa è questo? Siccome il cervello è il corpo, per favore, se ve ne andate da stasera con questa idea qui, anche solo questa, e che quindi dare una carezza vale più di centomila discorsi, tra l'altro dimostrato scientificamente, quindi è vero, capito? Perché se lo facevi, se non era dimostrato, non era vero, che un incoraggiamento solo corregge un errore di un alunno più di 89 rimproveri. Ma è chiaro che rimproverare, ortopedizzare, incasellare, farsi obbedire, che è il sistema del potere, è più semplice, è più rapido. Incoraggiare. Cosa comporta? Dare una carezza, cioè dire a quel corpo tu, è bello che esista. Cosa comporta? Un rischio. Un rischio. Non puoi dare fare una carezza per finta. Il peso della vita, lo senti? E questo me l'hanno insegnato i miei alunni quando io correggevo i temi solo con gli errori, poi a un certo punto ho detto che bella questa cosa che hai scritto. La mia alunna si ferma e dice prof, non me l'aveva mai detto. Allora ho aggiunto nella leggenda della correzione dei temi il punto esclamativo che sta a significare passo notevole. E quando metti un punto esclamativo loro si illuminano. Questo perché ve lo dicevo a proposito del cervello, del cuore, ma me lo sono dimenticato. Eh? Ah, il battito delle mani, grazie. L'ho fatto apposta e lo faccio con i miei alunni lo stesso. Un più, scatta il più a quel punto. Il battito delle mani, appunto, perché battiamo le mani? Perché il nostro corpo ci sta dicendo, in unità con il nostro cervello, che abbiamo sentito qualche cosa per cui vale la pena impegnarsi, quindi vogliamo subito mettere le mani in pasta. E battiamo le mani in assenza di altro. Ok? Poi a volte invece ci prudono le mani ed è un altro tipo di cosa. Va bene. Allora, perché sei venuto al mondo? Falla lavorare questa cosa, eh? Perché questo ti guarirà da 13 anni di scuola italiana. L'unica domanda a cui devi sapere rispondere è questa. Perché questo ti darà il coraggio di esserci in maniera irripetibile. Perché il grosso problema nostro è, siccome non siamo abbastanza, di nasconderci nell'anonimato del non abbastanza. I social in questo sono grandiosi. Perché ci danno l'illusione di esserci, ma in realtà ci confinano in una consolazione reciproca del non essere abbastanza. Che poi diventa invidia nel momento in cui c'è qualcuno che invece sembra essere abbastanza. L'architettura dei social è proprio basata sulla paura e sulla invidia. Ma, ripeto, non è una cosa cattiva. È l'umano che è fatto così. Ha queste due forze di base che lo guidano. Come si risponde? Appunto, con la creatività e con le buone relazioni. Allora, l'esame di maturità. Cosa dovrebbe e potrebbe essere? Maturità. Interessante, altra metafora presa dalla natura. Dice, ma tu sei maturo. E che cos'è maturo? Ciò che non è né acerbo né marcio. Giusto? Quindi ciò che è fatto per essere raccolto. Tu ho una persona accolta. È una persona fatta per essere raccolta. Cioè che ha una sapienza della vita che può nutrire gli altri. Perché se io so perché sono venuto al mondo, il mio essere al mondo con coraggio, anche rischiando, sbagliando, eccetera, eccetera, cosa farà? Nutrirà gli altri. E quindi io sono maturo a 10, a 15, a 30, a 80 anni, in base al fatto che io do vita sulla base del modo in cui io solo posso dare vita nel mondo. Allora basta tutta sta retorica, vecchi, anziani, giovani. Ma chi se ne frega? La tua vita è feconda o no? Che impatto hai sul mondo attorno a te? I romani, i latini, che erano, ti vedo scomodo, lo so, io adesso la pianto, hai ragione. A proposito di corpi che parlano, c'ha la schiena che non ce la fa più. Se volete coricatevi, mettetevi a pancia in giù, potete fare veramente quello che volete. Tanto qui non ci sta ascoltando nessuno. I romani, che erano molto concreti, dicevano felice, lo utilizzavano i contadini romani per parlare, vi potete mettere sì, ma anche nessun problema, per gli alberi. Il contadino romano diceva arbor felix, per dire che cosa? L'albero che dà frutto. È proprio semplice, semplice. Dice, non è, ah che bella metafora quest'albero così gioioso, perché ci parli con gli alberi, c'è chi parla con gli alberi, c'è chi dice si fa ascoltare Mozart, crescono meglio, vabbè. Non è questo però in questo momento che ci interessa, ma un altro discorso. L'albero felice è l'albero che dà frutto. Punto. Cioè la felicità tecnicamente è la fecondità, è la generatività. Quanta vita cresce attorno a me. Questa è la natalità. Tutto il resto è retorica della natalità. Nel senso che se io sono felice, cioè produco vita attorno a me, attorno a me si risveglia la vita. Motivo per cui esiste l'arte. La bellezza è questo. Non serve a fare i premi, non serve a fare le classifiche dei libri, di quanti ne vendi, di quanti non ne vendi. Serve a una sola cosa la bellezza, a farti venire nostalgia del fatto che non stai utilizzando i doni della vita per quello per cui ti sono stati dati. La bellezza è nostalgia del nostro posto del mondo e infatti la vera bellezza ti mette in difficoltà, ti fa sentire il dolore dei doni che stai sprecando e allo stesso tempo ti fa venire voglia di farli fruttificare. A me mi ha sempre colpito nel Vangelo un passaggio assurdo in cui Gesù ha fame, si ferma davanti a un albero di fichi, cerca, bellissimo, rigoglioso, pieno di foglie, cerca i fichi e non ci sono. E si arrabbia e lo fa seccare. Arrivederci. E lo fa seccare, dico, ma... E l'Evangelista commenta, non era la stagione dei fichi. Dico, allora, se questo testo raccontasse balle, cioè uno volesse raccontare una cosa insomma che un po' ti conquista perché questo Gesù è un supereroe, fa cose fighe e dice, vabbè, vai, albero di fichi, tavolata. No, lui mette il carico da 90, lo fa seccare. L'Evangelista se avesse voluto parlare bene di Gesù avrebbe detto, avrebbe omesso la notizia, non era la stagione dei fichi, no? E allora com'è possibile questa cosa? L'indomani mattina passano di fronte all'albero e i suoi discepoli vedono che l'albero è seccato, ma nessuno ha il coraggio di dire niente. Allora io mi sono detto, ma perché nel Vangelo c'è finita sta storia che secondo me è un po', anche dal punto di vista ecologico, un po' bruttina, no? Perché doveva rimanere chiara una cosa, che per l'umano l'albero è sempre felix, è sempre tempo di dare frutti. Allora non ci sono giovani e vecchi, c'è chi dà frutto e chi non dà frutto. Platone, il tempo, cura. Allora uno capisce che la cura non è volontaria, non è carisma, non è tempo libero, non è emorragia dell'essere, è esattamente la maniera in cui l'essere si realizza. Io più mi prendo cura di me e del mondo attorno a me, più io aumento in essere. Quindi la grande illusione che ci danno il consumismo, che io prendendo vita ho più vita, il nichilismo niente ha senso, l'individualismo tutto per me, in realtà quella sì che è una continua emorragia di essere. Perché l'infecondità è ciò che condanna l'infelicità. Allora gli stati generali della natalità secondo me dovrebbero ragionare anche su questo discorso qui. In che maniera noi costruiamo una narrazione nella nostra vita personale che sia di questo tipo. Arbor felix. Felix, felix, felice, ricordate, vuol dire che dà frutto. La radice felix vi suonerà forse per chi ha reminescenze di un po' di greco, con un verbo greco che è fiuo, da cui viene la parola fiusis, natura, che per i greci non era, ah che bello questo parco. No, era ciò che di sacro c'è nel cosmo. Cioè quell'energia che permea tutto il cosmo e che lo porta a fare che cosa? A spingere per compiersi. Noi abbiamo sterilizzato questa energia. La felicità non è altro che permettere a questa energia che alle cose inconsapevoli è data gratuitamente. Loro hanno questa intelligenza nel realizzarla. A chi è consapevole invece questo è dato liberamente. Ed ecco il punto. Di che cos'è la libertà? La libertà esiste, la alleno solo nella misura in cui diventa e mettersi al servizio di questa energia. Innanzitutto la mia, perché io faccia quello che solo io posso essere e fare. E poi quella degli altri. E succede come succede in natura che le cose nascono. Mentre un animale, quando esce dalla pancia della mamma, è nato una volta del tutto, una volta per tutte. Cioè l'istinto lo dota sin dal primo istante di tutto quello che gli serve per essere. Cioè è nato in quell'istante una volta per tutte. L'umano ci mette tutta la vita a nascere. Ma vi siete mai chiesti perché? Perché? Con tutto sto popò di retorica dell'evoluzione. Poi l'umano è l'unico sfortunato che ha bisogno di cure fino a 18 anni. Ma ve lo siete chiesti perché? Ma una giraffa vi pare che può aspettare 18 anni per sopravvivere? Ma qual è il motivo per cui l'evoluzione umana si comporta in questa maniera controintuitiva rispetto a quello che dovrebbe essere? Perché la natura ha deciso che per l'umano, consapevole di esserci, l'esserci si realizza nella cura, cioè facendo nascere gli altri. Cioè siamo fatti per nascere del tutto tutta la vita. Io voglio che sulla mia tomba, lo scriverò nel mio testamento, mi è venuto in mente in questo momento, le date siano invertite. Facciamo una rivoluzione epocale. Il giorno della morte è il giorno in cui D'Avenia è nato del tutto. Perché? Perché devo poter dire in quegli ultimi istanti di nulla è andato sprecato. Nulla è andato sprecato. E voi applaudite, e voi applaudite perché sta succedendo in voi. Dimenticatemi, voi non siete venuti ad ascoltare e a sentire me, voi siete venuti ad ascoltare e a sentire voi. Se la parola, e questo è il compito che ho io, il motivo per cui io sono al mondo, ha risvegliato in voi questa cosa, è la conferma che io ho questo dono. Ed è bellissimo. Perché stando qui su, io vi torturerei per altre tre ore, so che non posso farlo, perché poi utilizzerei male il mio dono, lo farei diventare potere, ed è una tortura. Questi qui non ce la fanno, avevano preparato delle domande. Cioè poi in realtà io le domande me le ero lette, tutto questo che sto dicendo è venuto un po' dalle tre cose che ho sentito. E poi che succede? Che appunto si è risvegliato qualcosa dentro che è già tutto lì. È quel felix, quel fiu, quella fiusis, quella natura che vuole venire alla luce pienamente. E infatti le piante che cosa fanno? Devono venire alla luce. E più vengono alla luce, più devono mettere radici. Ma che cosa interessante che l'esserci si approfondisce nella misura in cui viene alla luce? Ma per venire alla luce io lo devo sfidare a venire alla luce. Quindi se io e lei, io e lui scopriamo tra i 14 e i 18 il perché sei venuto al mondo e ci mettiamo a lavorare su questo, voi capite che loro hanno una resistenza alla paura che nessun altro ha. Le vostre domande, io me le sono lette con attenzione, hanno tutte un fattore comune. Voi siete terrorizzati dalla vita. La parola paura c'è in otto domande su dieci. E com'è sto fatto? Nell'età in cui siete fatti per essere sbruffoni e non avere paura di niente. Perché in realtà la paura vi mangia il cuore. E perché ve lo mangia? Perché siete normali. Perché siccome ancora non è chiaro che cosa deve nascere, che cosa solo voi potete fare nascere, la paura è di non esistere mai abbastanza. E allora che cosa si può fare così provare a rispondere a qualcuna delle vostre domande, visto che voi chiedete poi sempre le soluzioni? Primo, bisogna coltivare la felicità, visto che abbiamo utilizzato solo metafore che riguardano le piante e siamo partiti dal mandorlo di Van Gogh, la felicità va coltivata. Ovvero bisogna che voi ragazzi vi chiediate in che cosa siete insostituibili. Sì, cioè in che cosa sei insostituibile. Attenzione, non sto dicendo adesso io ho quel talento canoro per cui vado al talent e spacco tutto. Non è quello. Quella è la riduzione del talento a carriera. È un'altra cosa. Non vi illudete che sia quella roba lì. Ciò in cui io sono insostituibile è ciò che nessuno può fare al posto mio. Per esempio io sono insostituibile nel fare un tragitto da casa a scuola a piedi anziché coi mezzi. Solo io posso farlo a piedi. Dice ma che sfortuna, ma che è sta cosa? Non c'ho tempo da perdere. In questo sei insostituibile. Comincia da lì e magari lo fai senza utilizzare il cellulare. Arrivato al quinto o sesto minuto di questa camminata tu lo cerchi. Dov'è? Mi manca qualcosa. Come ti manca qualcosa? C'è la realtà attorno a te. Perché funziona così che la realtà a un certo punto, nella misura in cui le vai incontro, ti viene incontro. Perché è un dialogo continuo quello del nascere. Non si dà nascere fuori da quei giorni che sono nel grembo materno. Non si dà. I miei mille giorni continuano. È un dialogo continuo in cui la realtà mi chiama perché chiama solo me in quel modo. Allora io noterò delle cose che un altro non nota. Una scrittrice americana che faceva sempre lo stesso tragitto stradale per accompagnare sua figlia a scuola, ha scritto un libro fatto di undici capitoli perché si è resa conto che se faceva quel tragitto con un architetto, gli raccontava un altro tragitto. Se lo faceva con l'amico archeologo, gliene raccontavano con un altro. Quindi è lo stesso tragitto casa scuola raccontato undici volte diverso e sembra di essere in undici mondi diversi. Eppure lo stesso noiosissimo tragitto casa scuola. Perché l'architetto, l'archeologo, l'antropologa, la psicologa rispondono in maniera diversa a uno stesso tragitto? Perché il dialogo con la realtà è unico e irripetibile. Ciò che ho da dare io al mondo lo posso dare solo io. L'ultimo capitolo è dedicato al cane perché lei ha fatto lo sforzo di capire come il cane vede, a che altezza vede e dove piscia perché quello poi è fondamentale per appunto anche l'unicità del cane. Allora questo coltivare la felicità e in cosa io sono insostituibile? Alunna che ti dice allora io ho capito che voglio fare la stilista. Benissimo. Quante alunne vogliono fare la stilista? Un sacco. Hanno questo sogno della moda eccetera eccetera. Inizio dell'ultimo anno. Ok, vediamo se la realtà ti corrisponde. Cerchiamo, e lei si è fatta, un anno, due pomeriggi a settimana, in un atelier di una sarta a cucire i bottoni. Alla fine di quell'anno si è presa la maturità ma sapeva anche cucire di tutto punto un abito con le sue manine. E che cosa è successo? Se la godeva ancora di più, coltivare la felicità. Bisogna soffrire ragazzi. Se le tre ore che tu hai per coltivare la felicità al pomeriggio dopo che hai finito i compiti, dopo che non hai iniziato i compiti, è impegnata a scrollare i video, voi capite che c'è un problema. Ma non perché siete cattivi, semplicemente vi state lasciando imbali alla paura. Siccome avete paura di fallire lì fuori perché pensate di non essere unici e irripetibili, stiamo lì a coccolarci e a provare delle emozioni che quantomeno non mi fanno star male. Ma poi finito quel pomeriggio di video stai ancora più male e ti devi procurare più dopamina. Ed è un crescendo. Di che cosa? Di non essere abbastanza. ed è disperante questo. Invece l'altra ragazza dice allora io a me piacerebbe fare medicina. Benissimo, ma tu come sei messa col sangue? E allora si è iscritta al corso di aiuto in ambulanza e faceva il volontariato in ambulanza la sera. E ha capito che quella era la sua strada perché lei vedere la gente scorticata la esaltava all'intervento. Io se vedo qualcuno scorticato, insomma, me la do a gambe. E per fortuna, per fortuna, io ho il papà dentista e mi ricordo che quando ho due fratelli più grandi, il primo ha fatto filosofia, il secondo ha fatto storia. i miei genitori, un minimo, si guardavano intorno e diceva, chissà, il terzo. Dice, ma farà il dentista? Tutti che mi dicevano, mi raccomando, ce lo studio già pronto, dai, è la via sicura, ma poi i dentisti guadagnano un sacco di soldi. Allora io alzo sommessamente la mano a un certo punto, veramente io vorrei fare l'insegnante. La delusione di tutti, i miei compagni, ho perso amici. E i miei compagni dicevano, ma sarai un morto di fame? Erano già morti loro. Tanto che io, sulla base di questa paura, mi sono iscritto ai test di odontoiatria. Pensa te, stavo per barattare la mia vocazione con la paura. Poi, per fortuna, un altro mi ha detto, senti, ma tu hai 30 anni, 40 anni, 50 anni, ti svegli la mattina e dove vai? Vai in classe a raccontare Omero, Dante e Shakespeare? Oppure vai in studio a fare un'otturazione? Con tutto il rispetto per l'otturazione, viva i dentisti, viva mio papà, che se non ci fosse io avrei paura del dentista. Ma mi è stato chiaro, mi è stato chiaro da quella chiamata, da quel maestro che mi diceva, ecco. E allora, seconda cosa, coltivare la felicità, cioè mettersi nei guai, andare a bottega, capire se quella chiamata è un idolo, un'illusione della conoscenza di me stesso o è una chiamata vera? Allora questo spariglia le carte, perché non esistono più i mestieri, le carriere, le cose già stabilite. Esisto io che costruisco da dentro verso fuori la vocazione che ho. Poi, che cosa mi serve per arrivarci? Questa tappa, questa tappa, dove è il posto migliore dove farlo? Chi è l'interlocutore più giusto? Bene, te lo cerchi. E allora andiamo al secondo discorso, i maestri, le relazioni. Pensate una scuola in cui un professore delle medie riceve da la maestra delle elementari il perché al mondo il bambino da sei a dieci anni. Immaginatevi un professore delle superiori che riceve da un professore delle medie, dopo tre anni che è stato con un preadolescente, il perché al mondo quell'adolescente. Immaginatevi che rivoluzione. in Italia ci sono sette, tra i sette, gli otto milioni di ragazzi impegnati a scuola. In un paese di sessanta milioni, poco meno, questo è lo stato generale della natalità. Come noi stiamo facendo nascere quegli otto milioni che su un paese di sessanta, capite che è una rivoluzione immediata e che la natalità si fa da lì, che il vero problema è, veniva citato prima, è questo aiutare a nascere in tutto il periodo della nascita, che è tutta la vita, ma è in particolare da meno nove mesi a vent'anni. Quando il cervello finalmente si stabilizza, insomma, poi uno vi guarda, dice, si è stabilizzato, non tanto. Ma quello è anche il bello, no? E allora l'ultima cosa che mi viene in mente è quella di questi maestri. Io ho avuto come maestro due maestri fondamentalmente. Il professore di lettere, che è il motivo per cui ho deciso di fare il professore di lettere, che mi ricordo che un giorno mi chiamò da parte alla fine di una lezione e disse, Alessandro, vieni qua, quarto anno, come voi, quarto anno, cercatevi questi maestri, cercateveli. Andate dai professori e metteteli in crisi. Dice, prof, ma secondo lei perché io sono venuto al mondo? E lui ti dirà, ma questo non è mio compito. Come non è tuo compito? E tu cosa fai? Io devo istruire. Scusa? Istruire ed educare? Li abbiamo separati, terribile cervello-corpo, la stessa cosa, tutto lo stesso danno, la stessa origine, la stessa radice. Comunque, perché sono al mondo? E che ne so io? Bene. Cambia sezione, cambia materia, cambia tutto, stai perdendo il tempo. Solo che in Italia questo non lo possiamo fare, a proposito di libertà, perché poi pipipi tutti liberi, ma per niente liberi. Va bene, devo stare zitto, queste cose vengono anche trasmesse. Allora, i maestri. Allora, mi chiama e dice, Alessandro, ho portato una cosa, questo è il mio libro di poesia preferito, te l'ho presto, me lo devi restituire, fra due settimane lo devi aver letto. Tomo così di Friedrich Helderlin, poeta romantico tedesco meraviglioso che non si era capito neanche lui, tanto che a un certo punto impazzì. A un certo punto impazzì e scriveva delle poesie meravigliose firmandosi con un nome italiano, Scardanelli, e mettendo come date quelle del futuro, il che vuol dire che era l'unico normale. Altro che pazzo. Normalissimo, era fuori dal tempo ormai, aveva capito tutto. Comunque mi presta sto libro, non so, bisognerebbe fare delle analisi su questo, perché proprio quel libro dice, il mio libro di poesia preferito. Io in quelle due settimane sono diventato insegnante. Perché? Perché venivo sfidato a fare una cosa che era più grande di me. Io non ho mai capito Helderlin, in quelle due settimane non ci ho capito niente. Quello che ho capito erano le note al margine a matita del mio insegnante, che mi diceva, io vedo in te adesso, e lo aiuto a nascere, una cosa che merita una cura, per cui stamattina invece di pensare che palle questa lezione con questa classe, prendo questo libro e lo do a lui. Basta una cosa, basta ricordarsi che c'è un corpo attaccato a un cervello, anzi, che quel corpo è il cervello, perché è il gesto di dare il libro che fa cervello, che fa nascere quel corpo. Ed è stato bellissimo, bellissimo il giorno in cui ho presentato uno dei miei romanzi a Palermo, che alla fine della presentazione c'era il momento domande, si alza dalla platea il mio professore, meraviglioso, uguale a se stesso, perché gli insegnanti che fanno bene gli insegnanti non invecchiano, ve lo assicuro io. Perché? Perché appunto nascono continuamente, cioè invecchiano esteriormente, ma il fuoco è un'altra cosa, il logos è un'altra cosa, noi non abbiamo capito niente su questo, ma non importa. Allora viene, prende il microfono e comincia a leggere ad alta voce una poesia di quel libro e chiude l'intervento dicendo ringrazio perché oggi sono stato alunno del mio alunno. Allora, oggi, voi capite questa frase? Questa frase non è per dire quanto sono bravo, questa frase è per dire che cosa succede quando uno fa quello per cui è fatto. Diventare alunno del proprio alunno vuol dire che il tempo si è fermato, vuol dire che lui è rimasto giovane in me, che quel prendersi cura, è tempo guadagnato, non è emorragia di essere. Questa è la vita eterna, non è quella che c'è dopo. La vita eterna è la vita che non si rovina. Noi non dovremmo chiedere l'immortalità, al massimo l'eterna giovinezza, ma poi la tematizziamo in termini più estetici che altro. Secondo maestro, io quel giorno stavo presentando un romanzo che si titola Ciò che inferno non è, che racconta la vita, l'ultima estate di vita di padre Pino Puglisi, che io ho avuto come professore di religione della mia scuola. Per me quello è stato uno spartiacque, perché voi sapete che lui è stato ammazzato dalla mafia ed è stato ammazzato dalla mafia proprio quando noi cominciavamo quel quarto anno. Il quarto anno è stato l'anno della nascita per me, cioè l'anno della nascita, l'anno in cui sono stato costretto a pormi il problema del venire alla luce invece di continuare a non farlo. E perché è stato ucciso padre Pino Puglisi, che era un professore di religione del liceo classico di Palermo Vittorio Emanuele e poi il parroco del quartiere Brancaccio, dove si occupava appunto di quello di cui si occupa un parroco. Lo sappiamo perché il suo assassino, Salvatore Grigoli, detto il cacciatore, all'età di 32 anni era già un assassino efferato, veniva detto il cacciatore perché appunto aveva fatto già tantissimi omicidi. I fratelli Graviano commissionano l'omicidio di padre Puglisi e lui insieme a un altro, Gaspar e Spatuzza, ne avete sentito parlare recentemente, lo cominciano a seguire per capire quando ammazzarlo e si rendono conto, quando cominciano a fare questa cosa, che a qualsiasi momento era buono e lo ammazzano proprio subito, subito, sotto casa, facendo finta che si tratti di una rapina. Bene, il cacciatore, Salvatore Grigoli, si costituisce, diventa collaboratore di giustizia e gli chiedono, ma perché l'avete ucciso? Perché si portava i picciriddi cuiddu? Allora, in questa frase c'è la sintesi di tutto quello che ci siamo detti. Per il sistema mafioso, sistema di potere. Quindi voi scorporate, a me non interessa mafia, il potere è uguale dappertutto, poi usa la violenza in maniere diverse, c'è la violenza elegante, c'è la violenza meno elegante, sempre violenza è. Il potere ha un'unica retorica, un unico linguaggio, quello del controllo. E si portava i picciriddi cuiddu, vuol dire che faceva vedere a questi bambini, a questi adolescenti, un modo di vivere diverso da quello che loro ipotizzavano, che non è che lo facessero perché erano cattivi, che un bambino che cresce nella strada, in un quartiere dove non c'è neanche una scuola media, cosa ha come obiettivo per la propria felicità, diventare un picciotto mafioso. Non è che è cattivo, è normale. Tu hai una narrazione che ti dice come essere felice, è molto semplice. Lui che cosa faceva? Niente, semplicemente ha fatto un centro dove li faceva studiare, giocare, ogni tanto li portava in giro a fare le gite e c'è questo episodio bellissimo di un'otto in cui vanno a vedere le stelle ad agosto, lì la notte del cielo stellato e a un certo punto un bambino, Brancaccio è due chilometri dietro il mare a Palermo, vanno, arriva al mare a vedere. Questo bambino a un certo punto nel silenzio fa, mi, Don Pino, ci sono le stelle. Don Pino lo guarda e dice, ma ci sono anche a Brancaccio. Il bambino sta in silenzio e poi fa, se, vabbè. Allora capite qual è il punto? Mettere le persone di fronte alla bellezza significa far sentire loro che c'è una vita diversa. Eppure siamo a due chilometri da Brancaccio, le stelle si vedono uguale, eppure quel bambino non le vede. E perché non le vede? Perché nessuno gli ha detto che ci sono. Allora queste cose sono per la mafia, per il potere, pericolose. Perché? Perché ti dicono che la vita felice è una vita in cui tu crei e non distruggi. Una vita in cui entri in relazione anziché togliere le relazioni. E questo, per la mafia, è pericolosissimo, tanto quanto Falcone e Borsellino. Capo d'accusa si portava i piccirì di cuiddu. Capite perché? Quell'anno per me è stato uno spartiacque, perché quando il professore di legione della tua scuola viene ammazzato, devi decidere se occuparti del sabato sera o di altro. Poi continui a occuparti del sabato sera perché è importante, ma con uno sguardo più ampio. E Salvatore Grigoli, che racconta questa cosa, a certo punto il magistrato gli chiede, ma lei perché si è costituito? La risposta è stata perché non riusciva a dormire più la notte. Perché? La risposta è stata perché quando gli stavamo per sparare, lui ci ha guardato, ha sorriso e ha detto, vi stavo aspettando. non è retorica sentimentale, non è un santino, e infatti ho scritto un libro per capire quanto questa cosa fosse vera. Mi sono studiato tutti gli atti del processo, è stato un lavoro bellissimo. Perché un assassino soprannominato il cacciatore non dorme più la notte quando ha già fatto tanti assassini. Perché mentre sta sparando a un uomo quello gli sorride. Perché in quel momento è nato. È molto semplice. Quando tu nasci non puoi fare altro che continuare a nascere. Che cosa ha visto Grigoli in quel sorriso? Che qualcuno, il cervello e corpo, sorrideva sulla sua vita e gli diceva, la tua vita è talmente bella e grande ed io sono talmente libero dalla mia che posso sorridere. È chiaro che stiamo parlando di qualche cosa che sfugge all'umana comprensione. Come si fa nel momento di massimo limite a sorridere a chi ti sta togliendo la vita? Vuol dire che padre Puglisi era talmente dentro il suo nascere che persino la morte non era più a tema come ostacolo e come limite. Cioè quel momento lì è il momento della nascita di quell'uomo. Non è il momento della morte. E non è tanto un caso che si dica, anche se poi diventa un po' una retorica, nascere al cielo. Che strana questa cosa, no? Interessante, ci sarebbe da lavorarci. Grigoli rinasce, si costituisce, cambia, guarda caso, cambia identità. Gli viene dato un nuovo nome. Nell'Apocalisse si dice che quando ci troveremo di là succederanno due cose. Che ci verrà data una manna che non si saurisce mai. Cioè finalmente si magna senza problema di procurarsi da mangiare. Bellissimo. E la seconda cosa ci verrà dato un sassolino bianco con su scritto il nostro vero nome. Che, fuori di metafora, significa quanto tempo hai perso a non essere te stesso? Cioè quanto ci hai messo a non nascere? Quanto ti sei preoccupato di non morire invece di preoccuparti di nascere di più e far nascere di più. Allora capite che tutto l'occuparsi di chi deve nascere non è volontariato. È una necessità che nasce dall'interna convinzione che se io ne sto nascendo e sono felice di nascere non posso fare altro per gli altri. Noi non amiamo le persone perché siamo buoni, ma noi non siamo tutt'altro che buoni. Noi amiamo le persone perché ce ne prendiamo cura. Non amiamo i bambini perché sono bambini. I bambini sono terribili. Non amiamo gli adolescenti perché sono adolescenti. Dopo l'ora di educazione fisica, ma come fai ad amarli nell'ora di italiano? È impossibile. Noi amiamo perché ci prendiamo cura e noi ci prendiamo cura perché ci conviene, perché così aumenta il nostro tempo. Ci costringiamo a nascere prendendoci cura. Ma la narrazione dominante fatta, ripeto, del combinato composto di consumismo, individualismo e nichilismo dice l'esatto contrario che prendersi cura è emorragia d'essere. Questa è la più grande menzogna del nostro tempo. È la più grande menzogna. Non si può essere felice con quelle tre cose lì. Perché l'uomo è un essere a tempo che ha bisogno di relazioni, di creatività e di dare senso al tempo. Esattamente le tre cose contro cui vanno consumismo, individualismo e nichilismo. Questo applauso più sommesso, un po' da piano bar, mi dice che è finita. Perché bisogna cogliere i segni dei tempi anche, con umiltà. Mi arriva la conferma, anche perché abbiamo parlato troppo. Mi dispiace di non avere direttamente dato voce a voi, ma io avevo in mente tutte le cose che ho detto, le ho detto pensando alle vostre domande. Credo che chi aveva la domanda qualcosina ha percepito, i suggerimenti sull'andare a bottega, sul cercarsi maestri, insomma. Erano tutte risposte ai vostri come. Poi ragazzi sono cavoli vostri. E questo è il bello, questo è il bello. Platone diceva, si è inventato questa etimologia bellissima, dice perché in greco abbiamo chiamato l'eroe eroe? In greco eroe si dice eros. E lui inventando questa etimologia, perché è scritto in una materia diversa, dice l'eroe eroe perché ha l'eros. Se io dico a voi la parola eros, voi subito pensate a cose, eh? No, non c'entra niente. L'eros è proprio quel dio a metà tra cielo e terra per Platone che risveglia l'energia unica e irripetibile che c'è in ciascuno di noi. Lui aveva bisogno di metterlo fuori perché era un po' fuori. Lui metteva fuori tutte le cose belle e le metteva fuori. Per fortuna forse ci siamo resi conto che le cose belle sono dentro, sono già qui. E l'eros è questo amore che governa tutte le cose. E nella misura in cui noi ci mettiamo al servizio di questo eros diventiamo eroi e protagonisti. e rendiamo gli altri eroi e protagonisti. Se questo vi è successo in questa ora e mezza, io sono stato a disposizione di quest'eros. Se non vi è successo, dimenticatemi. Non mi fate critiche, io non sono nessuno, non esisto. Adesso sparisco e sono cavoli vostri. Grazie. Venite qua, venite qua. Dobbiamo fare la foto, certo. Applaudite loro. Sì. Ci siamo? Bastano? Grazie. Grazie. Grazie.